È stata aperta nella giornata di ieri a Bari la mostra che ha messo a disposizione dei cittadini trofei vinti dalla Nazionale Italiana di Calcio. La mostra, organizzata dalla FIGC e dal Comune di Bari per Bari Città Azzurra, la manifestazione sportiva che prevede l'incontro tra Italia e Francia in programma questa sera allo Stadio San Nicola, metterà in mostra le quattro coppe del mondo e la Coppa Europa vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio. La mostra è stata allestita nell'ex palazzo della provincia, oggi sede della città metropolitana, dove la torre del palazzo in occasione dell'evento sportivo verrà illuminata con i colori del tricolore. Siamo entrati nel vivo delle giornate dell'iniziativa Bari Città Azzurra. In attesa dell'arrivo della squadra e dell'incontro previsto per stasera, possiamo goderci un po' di storia della nostra Nazionale attraverso i suoi trofei. È un'emozione grandissima poterli vedere tutti insieme e sono sicuro che saranno tantissimi cittadini che parteciperanno all'incontro di questa sera e che non faranno mancare il sostegno alla squadra azzurra e a Mister Ventura. In queste ore abbiamo definito inoltre tutti gli ultimi dettagli per attivare nuove aree di parcheggio nei pressi dello stadio, ridurre al minimo i disagi e facilitare così la partecipazione di tutti. Quella di giovedì per Bari sarà una grande festa di popolo, oltre che uno straordinario evento sportivo. Queste le parole del sindaco di Bari Antonio De Caro. La mostra sarà aperta al pubblico dalle 8 alle 20 con ingresso libero.